Sì, mi piace perché c'è una grande varietà di enigmi e poi c'è lo schermo che è molto più grande e la possibilità di mettere il 3D, puoi vedere meglio gli enigmi, capire meglio tutto poi i dialoghi sono comunque interessanti, per cui la storia ti prende, ti travolge mi sto divertendo un casino a giocarci è ottima la funzionalità del 3D, in particolare anche sul professor Leighton avevo mai provato un videogioco del genere e devo dire che è fatto veramente molto bene perché anche senza occhialini rende molto l'idea e rispetto ai capitoli precedenti su questa versione del 3DS XL trotti molti più dettagli nella risoluzione degli enigmi il gioco si presenta benissimo e benissimo anche troppo poco premetto che sono abituata alla vecchia DS, quindi quella in 2D è la prima volta che prendo una DS 3D ed è eccezionale e questa nuova avventura ha tutte le premesse per essere un gioco veramente eccezionale ho giocato a Professor Leighton nella maschera dei miracoli, carino è molto bello, abbiamo giocato insieme e è divertente anche giocare in 2 il console è bello, è grande, si vede bene, si gioca bene e sfrutta anche bene le novità che abbiamo visto nel gioco rispetto ai titoli precedenti Professor Leighton è un gioco che va bene per tutti, si può giocare anche in famiglia, tutti insieme perché gli enigmi vanno bene per tutti e a chi ha già giocato i titoli precedenti e si è divertito a giocare penso che si divertirà anche a questo non è mai noioso grazie grazie grazie